Dall'8 aprile hanno preso il via i test di ammissione alle facoltà di medicina, odontoiatria, architettura, politecnico. Quasi tutti i partecipanti agli esami sono studenti dell'ultimo anno di liceo. È la prima volta che gli esami di ammissione arrivano così presto. Lo scorso anno, infatti, i test si erano ottenuti a luglio. In quel caso, la coincidenza con gli esami di maturità aveva mandato nel panico gli studenti italiani. Ma il rimedio, forse, anche stavolta, è stato peggiore del male. La comunicazione è tardiva. Secondo un sondaggio pubblicato da portale scuola.net, tre studenti su cinque sono stati sorpresi dall'anticipazione degli esami. E quasi il 30% si sta preparando solo da qualche giorno. A questo si aggiunge che la primavera è comunque un mese caldo per gli studenti che frequentano l'ultimo anno delle scuole superiori, tra ultima interrogazione e preparazione della tesina. Tanto che proprio dalla Puglia sono partite le rimostranze degli stessi docenti, oltre che da parte degli studenti. Alcuni licei, tra questi il liceo scientifico Nuzzi di Andri, hanno formalmente contestato la decisione del ministero per evidenti difficoltà dei maturandi a concentrarsi sulle lezioni, mentre devono preparare anche il test di ammissione alle università. E infatti anche il nuovo ministro dell'istruzione Stefania Giannini si è detta perplessa. Rispondendo all'appello di queste scuole, tra cui il liceo scientifico Andriese, dice è una decisione precedente su cui non sono intervenuta. Credo però che la compresenza dei test e della stagione finale della scuola con l'esame di maturità offra elementi su cui riflettere. E così, mentre il ministro riflette, studenti e docenti sono costretti ai salti mortali, con avvitamento sui libri. Il collegio dei docenti del liceo Nuzzi ha votato all'unanimità un appello che è stato inviato al ministro della pubblica istruzione, agli uffici scolastici regionali e a tutti i licei e alle scuole superiori della nostra provincia ed è stato sottoscritto anche dal liceo Scacchi di Bari. In questo appello noi invitiamo il ministro a modificare la legislazione che oggi prevede una cosa davvero assurda, cioè lo svolgimento dei test d'ingresso per le facoltà a numero programmato mentre i ragazzi stanno ancora svolgendo l'ultimo anno di corso. È una situazione disastrosa, c'è un disagio molto profondo che andrebbe risolto. Noi riteniamo il fatto che siano concentrati nel corso del secondo quadrimestre, in questo periodo dell'anno, sia i test di accesso per i corsi di laurea a numero programmato, sia i test di accesso per il Politecnico o altro. Una mancanza di rispetto nei confronti del nostro lavoro e un eccesso di stress nei confronti dei ragazzi. Io comprendo come per lo studente o la studentessa questi giorni rappresentino qualcosa di molto importante che decide il loro futuro, il che poi porta inevitabilmente a far sì che questi ragazzi si concentrino su un lavoro che ha ben poco a che fare con l'attività didattica. Tra l'altro riesce incomprensibile la ragione per cui questi test non si possano svolgere come è stato fatto in passato nel mese di settembre, il che consentirebbe ai ragazzi di svolgere tranquillamente, in questo caso, le attività didattiche durante l'anno scolastico, prendere una piccola pausa immediatamente dopo gli esami e poi concentrarsi sui test. Personale opinione è che si sia scaricato, in questo caso, sulle scuole superiori una mancanza di organizzazione delle università, perché non riesce comprensibile come ci vogliano mesi per poter semplicemente passare a un foglio a lettura ottico degli banali stampati, cosa che richiede un tempo estremamente limitato. Io voglio manifestare proprio il disagio tecnico che noi abbiamo in classe, un disagio molto forte perché dobbiamo gestire dei tempi di studio che non sono assolutamente adeguati all'obiettivo degli esami di Stato, perché i ragazzi sono del tutto concentrati sullo svolgimento dei test. Lo sono stati, sino a qualche settimana fa, per i test del Politecnico e lo sono attualmente per quelli a numero programmato a livello nazionale. È un disagio fortissimo perché noi abbiamo valutazioni sospese, compiti sospesi in attesa che i ragazzi possano liberarsi e questo andrà a incidere, speriamo di no, ma è un dato tecnico oggettivo sullo svolgimento dell'esame di Stato a luglio ed è veramente un peso per noi, per i ragazzi e per le famiglie. Io non so se la gente abbia idea di cosa vuol dire di fatto preparare un test durante l'anno scolastico. Io faccio un esempio che riguarda ovviamente la mia disciplina e la mia esperienza. Al quinto anno, io ho una quinta quest'anno, il programma di lettere va da, diciamo, Ugo Foscolo a Pasolini o Luzzi. Quindi svolgere questo programma significa fare una vera e propria corsa contro il tempo. Già di suo quindi è un anno estremamente impegnativo che ha, non lo dimentichiamo, una tappa fondamentale che è quella dell'esame di Stato. E qui vorrei rivolgere un interrogativo, diciamo, al Ministro. Che cosa accadrebbe nel caso in cui ipoteticamente un ragazzo superasse il test, ricordiamo che la totalità degli alunni in pratica fanno i test durante il secondo quadimesse, che cosa accadrebbe se un ragazzo superasse il test e non superasse l'esame di Stato? Da punto di vista, diciamo, della legittimità, del rispetto della Costituzione, nell'articolo che dice che tutti sono uguali e devono avere pari opportunità, cosa si verificerebbe in quel caso? E poi mi chiedo ancora come si possa essere esaminati su conoscenze che ancora non si è avuta la possibilità di acquisire. Cioè, voglio dire, i test hanno domande, per esempio, di cultura generale, di italiano, di storia, di filosofia, di matematica, naturalmente, di chimica e tutto il resto, su argomenti che i ragazzi stanno tuttora studiando. Come si può essere esaminati, magari alla pari con ragazzi che già da un anno frequentano altre facoltà universitarie, non avendo pari opportunità, non avendo avuto gli stessi tempi per apprendere quello su cui poi bisogna essere giudicati. Anche qui mi pare che la Costituzione, insomma, strida e che Calamandrei si stia rivoltando nella tomba. Il liceo scientifico di Andrea è la scuola che ha lanciato questo appello diffuso anche alle altre scuole per far sì che il ministro elimini questa sconcezza didattica che è quella dei test universitari fatti nel mese di aprile. È una cosa che non si può non definire, né vergognosa, né che dimostra la totale mancanza di attenzione verso il lavoro delle scuole superiori. Quindi è stato deciso altrove e noi ne paghiamo le conseguenze. Per quanto mi riguarda, spero che il cambiamento che il ministro sta ipotizzando e che dovrebbe avvenire l'anno prossimo, questa è un'opinione strettamente personale che comunque è condivisa da molti, possa essere il primo passo per l'abolizione totale dei test d'ingresso. Perché i test d'ingresso sono una barriera enorme alla possibilità e la libertà di scelta degli studenti di iscriversi alle facoltà universitarie. Noi facciamo parte di generazioni che hanno lottato per far sì che l'università fosse libera, l'iscrizione fosse libera. Noi siamo arrivati da capo ad avere in Italia la scuola universitaria a numero chiuso e questo è un fatto indecente. Quindi spero che sia soltanto il primo passo perché ormai la mancanza di attenzione nei confronti della scuola e degli studenti è totale e quindi verificheremo se ci sarà un cambiamento, un'inversione di tendenza. La qualità dello studio dei ragazzi che frequentano il quinto anno ne risente perché i ragazzi bravi che si stanno preparando per questi test di accesso sono stressati, sono preoccupati e o non hanno abbastanza tempo per dedicarsi a studiare bene per i test di accesso o altri scelgono di mettere da parte la preparazione scolastica e quindi approfondirla per studiare per i test di accesso alle università a numero chiuso. Molti li hanno affrontate ma molti stanno veramente preoccupati e si chiedono cosa devono privilegiare. Qualcuno tra gli studenti meritevoli ha detto non voglio sacrificare il percorso buono che ho portato avanti per quattro anni per i test di ingresso e alcuni già sanno pur essendo studenti che probabilmente prenderanno 100 alla conclusione degli esami di stato che se vogliono fare medicina non sono passati ai test. Sono convinti che dovranno sacrificare il prossimo anno accademico per studiare altro per poi ritentare medicina e fare quello che veramente vogliono fare e questo non mi sembra giusto. E come ha detto il collega professor Palumbo molto spesso chi decide per la scuola non è dell'ambito scolastico e non si rende conto di come i programmi sono organizzati, di come vanno portati avanti e come bisogna averli conclusi per affrontare bene questi esami di accesso o anche l'università perché i professori universitari dicono che arrivano studenti meno preparati ma la colpa di chi è? di chi fa le regole senza conoscere come bisogna portare le cose avanti.